La flat tax è un'idea populista? No, la flat tax è un'idea rivoluzionaria, non populista, per le conseguenze positive che può produrre sull'economia del paese. Renzi ha detto che si toglie ai poveri per dare ai ricchi con la flat tax. Manco per sogno. Vede, avere un reddito alto invece che un reddito basso è sempre meglio. È meglio essere ricchi che essere poveri. Su questo non ci pio. Abbastanza d'accordo. La flat tax non passa tutti nella stessa misura. Non solo tassa in misura diversa, chi ha molto e chi ha poco, ma percentualmente quello che pagano di tasse è molto maggiore quando si ha un reddito alto che quando non si ha... Parliamoci chiaro però, professore, il piccolo evasore oggi in realtà con la flat tax continuerebbe a non pagarla. Vede, l'evasore, piccolo o grande che sia, è un criminale. Essendo un criminale che rischia la galera e commette un reato, non gli fa importanza che sia flat tax o progressivo. Per loro è lo stesso. L'evasore, l'evasione forse è un effetto marginale, la flat tax lo può avere, ma non cambia. L'evasore resta... Cambia il comportamento di chi è già ricco oggi e per non pagare le aliquote di confisca che questo sistema fiscale ha si rivolge ai mandarini del fisco, avvocati tributaristi, commercialisti, che gli trovano 990.999 modi legali per erodere base imponibile o eludere le imposte. Quando Giulio Tremonti aprì lo studio di tributarista, nel primo anno fece erodere base imponibile alle società e a sue clienti per 600 miliardi di lire. Ma che dice? Sì, non è un reato, erano modi legali di non pagare. Non gli avranno dato l'1%, gli avranno dato lo 0,5%, che ha beccato 3 miliardi. Ora, il ricco che oggi paga profumatamente il tributarista per trovare un modo di scansare le imposte non avrebbe più questo incentivo. Se c'è un'aliquota unica al 20% o al 15% preferisce pagare. Perché?